1-2, Jordan 2 1-3, Jordan 2 Yeah! Ok, di guaglia! Sempre in attenuato Manolo Gagli, vedendo a scuole 2 in apparecchi 65, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.